Anche voi utilizzate i messaggi salvati su Telegram per qualsiasi cosa, dai biglietti alle immagini, eccoci! Grazie mille della sigla che io ho fatto, orribile, no, dovevi esserci quando l'ho fatto, è tutto chiaro, Marco Cupido, l'amore è tornato, eccoci qua Marco Cupido, la serie che mi fa parlare con gente davvero, minchia, ma c'è Lituania in chat? Perché ho qualcosa da dire. Ok, da dico, vi ricordate che ho parlato con Osvaldo, il ragazzo di Lituania, quando era l'ultima live? Ok, due cose, per quanto riguarda le chiamate, io detesto, quando sto parlando con qualcuno, che voi dobbiate scrivermi, Marco ferma la chiamata, perché, certo, viva il content dove ogni due secondi succede qualcosa, let's go! Viviamo al massimo! A volte, a me piace vivere, ma così al minimo, che mi dimentico di essere un essere umano, dimentico una medusa, e il vento, il vento e le maree, le maree mi portano dove vogliano loro. E a volte, quando incontro persone come Osvaldo, che dicono il cazzo che vogliono, Osvaldo è in quel momento della vita là, io mi faccio trasportare, stando di merda, a me piace a volte vivere così, e quando voi mi dite, no, cambia, cambia, intanto gli mancate di rispetto a lui, e a lui serve rispetto, ora più che mai, ora più che mai, e le wave, grazie per la prima, e soprattutto mancate di rispetto a me, pezzi di merda. Io non sono come voi, io non voglio sempre... A volte voglio solamente... Perciò mai più, mai più dirmi cambia, perché quando voglio cambiare lo faccio. Io. Ragazzi, Marco Cupidino, che è Osvaldo, posto così. Esaustivo direi, beh, che idiota, ma in Roma ho detto solo quello che penso. Allora, Marco Cupidino, come funziona? Mandatevi, mandatevi dei baci fra di voi, e poi mandatemi il vostro, la vostra storia traumatica d'amore, terrificante, su Instagram, adesso, con annesso il vostro numero di telefoni. Io vi chiamo, ne parliamo assieme, amo le storie terribili. Stupri, omicidi, trauma, tipo, Marco, ero bambina, avevo tre anni, e mio zio mi ha aperto il culo col suo cazzo. E ora non riesco più a guardare i maschi, e vivo di merda. Amo queste cose qua. Dal mio punto di vista non mi è mai successo niente di così grave. Dal vostro, io so che è terribile, e io questa terribilità la ricambierò. Intanto l'ascolto, perché è difficile trovare una persona che l'ascolto oggi, vero? E poi col cercare di dirvi, ma quel tuo zio, secondo me era un oncesso. E voi mi dite, grazie Marco, questo è il format, quindi mandatemi i vostri messaggi, con piccola sintesi, piccola, e amo le cose brutte, e mandatemi il vostro numero di telefono. Se è il primo messaggio che mi mandate, fate che sia numero di telefono, che storia siano nell'unico messaggio, perché Instagram adesso è scemo, e se mandate due messaggi, il secondo devo accettarvelo io, che palle. Partiamo già dal primo. It's Marco Cupidino time! Pronto? Pronto? Ciao! Ciao Marco! Ciao, come ti chiami? Ciao Alessandro! Ciao Alessandro, ho letto una sintesi che sembra anche la storia completa. Eh, traduzionalmente sì. Spiega un po' la chat. Allora, intanto, sono stato lasciato ieri. Dopo quanto tempo? Un anno e mezzo. Ah, come mai sei stato lasciato? Perché sto male. Sto male, ho iniziato da un mesetto e mezzo la terapia da uno psicologo. E durante il periodo dove lei lo è venuto a sapere, non dello psicologo, che stavo male, ho avuto un declino dell'umore e di quello che riuscivo a fare. E quindi troppo di motivazione. No, aspetta qua, aspetta, aspetta, quando lei è venuta a sapere che tu stavi male, questo suo venirlo a sapere ti ha un po' turbato e quindi sei stato peggio? No, in realtà il saperlo di tutti, cioè di tutti. Dei miei genitori, in primo luogo. E no, prima lei, poi i miei genitori, perché lei mi ha obbligato a dirle ai miei e lei stessa in realtà mi ha consigliato di andare dallo psicologo. Ah, lei stessa? Sì, sì, perché lei ci andava già da maggio quando è stata male anche lei. Ok. Ora, lungi da me pregiudicare dalla voce, ma sembri un tizio abbastanza cosciente di quello che hai e della cura che stai facendo. Come mai ti ha lasciato lei? Allora, non ho capito bene che cosa intendi con questa coscienza. Nel senso che sembri una persona che va dallo psicologo senza ma, cioè mi devo curare, sto male, vado. Senza perderti in quelle strane, tipo la gente che fa ma dovrei, non dovrei, cioè sembri una persona che è comunque cosciente di ciò che ha. Dubito che le persone vadano dal dottore di base, vadano dal dottore di base, chiedendosi se sia giusto prendere le pillole e direttamente non ci vanno. Io se devo curarmi, che sia per la testa, che sia per la pancina, devo farmi curare. Ed è una cosa che ti fa onore. E proprio per questo mi chiedo cosa ha portato lei ad arrivare fino a lasciarti. Allora, direi che era perché lei ci stava male, del fatto che non riusciva a darmi una mano. Io non so, Marco, te come affronti i tuoi amici, la tua compagna quando sta male. Cerchi di spronarli a fare di più o li cerchi di distrarre dai pensieri che elugorano la loro mente da anni. Mi fa ridere come parli. Io, quando le persone attorno a me stanno male, ho questo vizio, e lo chiamo vizio perché un po' non mi piace, però è più forte di me, di cercare di empatizzare così tanto con loro da stare male anch'io in modo da capirli. E quindi... E quindi... Cosa? Ho detto che ti capisco, ma non è una cosa che faccio volontariamente. Non è una cosa che faccio volontariamente neanch'io. Perciò questo è il mio modo per aiutarli. Io non sono così tanto per il devi fare questo, perché ognuno ha le sue battaglie, i suoi modi di combatterle, però mi piace capire tanto la gente e infatti sono molto in difficoltà quando chi è davanti a me ha un dolore e un male di cui non ne ho mai sentito parlare o addirittura non ho mai vissuto, perché là devo fare solamente da ascoltatore, che dovrebbe bastarmi, eh? Ascoltare è già... È fantastico, cioè dichiarare al prossimo il proprio dolore. Io amo ascoltare. Esatto, però a volte io da ecocentrico quale sono non mi basta, voglio essere al centro della cura e quindi empatizzare al massimo e spremendomi, però sì, e così è come faccio io. Perché tu? Io, quello che faccio quando qualcuno sta male è in primo luogo cercare di farli razionalizzare, quindi fargli mettere quello che hanno sul tavolo. Dopodiché, dopo che le hanno capite e ho capito che loro vogliono andare avanti, io li faccio ridere, mi piace far ridere le persone. Sei un comicone. Mi piace farle fare bene. Infatti sono riuscito attraverso il mio liceo a mettere insieme queste due cose con il teatro che facciamo a scuola e lo scienze umane che è l'indirizzo di base. quindi è bellissimo e quindi prima un devi capirti, devi capire e poi un ma facciamo che capirai da solo adesso pensiamo a stare bene. Regalo il momento di gioia. E quindi come si arriva al lei che lascia a te? Come scusa? E quindi perché ti ha lasciato se sei così anche in vena di essere uno che aiuta e che si fa aiutare quando sta male? Ecco, il problema è che io sto male da davvero tanto e come ho detto già all'inizio tipo? Tipo pensieri che mi logorano dall'interno. Da quanto stai male? Direi quattro anni. Ok. Stavo dicendo? Io ti ho chiesto come mai quindi si è arrivati al fatto che lei ti abbia lasciato. Ok. Allora lei tentava di farmi stare bene dicendomi cose come prova a fare questo devi fare di più guarda che non sei abbastanza guarda che sei abbastanza sei molto più che abbastanza e cose del genere quando in realtà quello di cui avevo bisogno secondo me era una distrazione cosa che lei mi ha chiesto di fare nei suoi confronti distrazioni? Quindi non ha fatto nel mio distrazioni? Sì esatto. Tipo andiamo al bowling? Tipo sì andiamo al bowling stiamo assieme e vabbè per assieme era una cosa un po' strana perché riuscivamo a uscire davvero poco spesso che strana sì che strano perché praticamente uscivo con i suoi genitori più che con lei ma un'altra storia direi sì sembra proprio un'altra storia esatto e e quindi lei ci stava male ha deciso di suo nonostante lei sapesse del fatto che sono una persona terribilmente razionale e riesco a distinguere benissimo i miei problemi da quelli che ho fuori quindi come il riuscire a portare avanti la relazione perché per quanto stessi male non gli ho mai fatto mancare la spalla su cui piangere cosa che lei ha fatto con me e quindi il suo andarsene mi ha dimostrato il fatto che in realtà io ci sono stato per il nulla cosa ti ha detto come buon servito cioè se n'è andata annunciando cosa come te l'ha detto mi ha detto guarda penso che tu abbia bisogno di tempo per te stesso devi guarire e poi ha detto Marco non metti a ridere per favore ok non faccio nessuna promessa mai a nessuno sei bravo Marco mi ha detto siamo legati dal destino prima o poi ci rincontreremo mannaia cioè ci torneremo a fare qualcosa ti ritorneremo a qualcosa io gli ho detto che non mi faccio inculare due volte con la sabbia per sé è vero ma non mi faccio inculare due volte con la sabbia allora secondo me questa cosa la dico senza conoscere molto te e ancora di meno lei cioè ancora di più lei ma io so manca un pezzo Marco comunque cosa? stai attento a prendere stai attento a prendere la mia parte perché manca ancora un pezzo dalla storia vai raccontalo comunque stavo per prendere la sua stavo per prendere la sua in un certo senso se vuoi te lo dico e poi continui no forse sai non lo so Marco sono molto confuso no 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 io ti dico solamente quello che penso dico che a volte insomma io penso di avere un animo come quello della tua tipa nel senso che quando io aiuto nei modi in cui devo aiutare e la gente continua a stare male mi innervosisco e non dovrei innervosirmi ma a volte sono innervosito e tutto ciò che mi rimane da fare quando qualcuno ha una battaglia così grande e personale è lasciar perdere quella persona perché c'è roba molto più importante a cui deve tenere oltre me perché altrimenti ci perdiamo in due continua però lei lei ci provava adattava a mettere lo testo e ci ha provato per un bel ci ha provato a farmi stare bene e lei comunque andava dalla psicologa e credo che gliel'abbia consigliato lei lascia il tuo ragazzo eh no è perché se stavo male io perché scusa se stavo le parole lei aveva bisogno di energie positive ok e io a quanto pare non gliele davo ma tu sei così oscuro come persona sei così negative allora nell'ultimo periodo ma io di mio ciao marcolino assolutamente no e nell'intimità è strano non uscire mai con la propria fidanzata e infatti marco io penso che ad aver augurato ancora di più questa situazione di io che sto male con lei sia la lontananza perché nel momento in cui io la vedo dico ok ho bisogno di sfogarmi e ho bisogno di buttare fuori quello che ho dentro e quindi mi incutisco minchia ho capito quindi lei era un po' il recipiente eh? era un po' il tuo recipiente di sfogo no 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 assolutamente no Marco perché io i miei pensieri logoranti quando ero con lei non li avevo ah e cosa hai detto prima? che tu ti vedevi con lei cioè cosa facevate? no hai ragione hai ragione ho detto che li avevo sempre ma con lei non li avevo ma avevo un altro pensiero il fatto che lei nell'ultimo periodo negli ultimi sei sette mesi eh si fosse davvero molto distaccata da me per questo motivo qua? eh no in generale cosa facevate quando vi vedevate? eh andavamo in giro dipende eh per la maggior parte delle volte non eravamo in casa ma mi hai ma prima mi hai detto che non che non uscivate mai? eh intendo io e lei eravate sempre con altri eh no no ci capitava quasi sempre in realtà di essere solo io e lei eh ci capitava poco spesso di essere eh in una casa nell'intimità di una casa e eravate in un e uscivate per andare in un'altra casa? no uscivamo per andare a fare altre cose allora senti 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 dimmi dimmi non 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 sto capendo un cazzo quindi tu voi dove passavate la maggior parte del tempo? a casa? no dove? in giro a fare cose in giro dove? per la per una città per quindi uscivate assieme spesso no se dici no ti ammazzo Marco la frequenza era poca tipo una volta a settimana si andava bene eh vabbè è buono vedersi un'altra settimana e uscire no? per due ore? vi vedevate solamente due ore a settimana? due ore a settimana e un quarto d'ora alla mattina cosa facevate questo quarto d'ora la mattina? la accompagnavo a prendere il bus che carino chissà che palle no era più che altro lei che accompagnava accompagnava me eh no per questo ci incontravamo a metà strada tra dove il suo bus arrivava e dove andavamo a prendere il mio dove andavamo a prendere il mio si poteva prendere anche il suo e quindi era due ore però da quello che ho capito prima tu mentre siete stati due anni un anno e mezzo un anno e mezzo un anno e mezzo un anno e mezzo e all'inizio della relazione stavate di più assieme sì e poi lei ha smesso di volerti vicino a sé così tanto allora non penso che sia il volermi accanto ma abbiamo smesso di uscire smesso di uscire tanto con tanto intendo due volte a settimana e per quale motivo non lo so credo la scuola e in più un allontanamento sentimentale e tu le hai posto questi problemi sì e le rispondeva rispondeva con o non è vero o altre cose un secondo Marco ecco mi scusa prego che hai fatto che hai fatto dimmi che hai fatto eh cosa hai fatto eh niente no hai fatto qualcosa che hai fatto era successo casino a casa parlami di questo casino a casa mia mamma ha urlato una cosa che ha urlato mamma voglio le parole per forza cosa Marco 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 non c'è tua mamma ha urlato per forza sì sei serio sì mi passi tua madre non posso perché no puoi tutto nella vita puoi passarmi tua madre eh no non posso fidati no no fidati tu di me puoi passarmi tua madre no inoltre Marco davvero fidati no un minuto un minuto con tua madre Marco eh come ti chiamavi Alessandro Alessandro dai non posso davvero chiedi ehm Marco che c'è Alessandro che c'è tua mamma ha gridato per forza sarà un po' bizzarro o no ma lo è ma io lo dico prima sì lo è perché ha detto per forza tua madre riusciamo a capire perché perché credo ci sia il penso che il segreto di tu che sei stato lasciato è dentro tua madre non penso no ma lo penso io fa ancora che lo pensi tu ti giuro lo penso io ma perché stai esagerando Marco ma tua mamma ha detto per forza ci pensi tua madre mia madre che mi dice l'acqua è verde porco dio ma per me non l'hai infatti fatta apposta perché esce no esce per forza esce sì ma non alla alla Dario Moccia quindi tua mamma ha detto per forza non alla Dario Moccia e tu hai detto un secondo Marco ne sono passati ben cinque perché ho contato cosa hai fatto in quei cinque secondi? ho urlato mamma ma che cazzo e lei che ti ha risposto? non ha risposto mi stai dicendo la verità? ti sto dicendo la pure vera verità Marco torniamo a te la tua ex ti prego quindi lei quando tu le davi questi dubbi quando le esponevi questi dubbi ti diceva che non erano veri giusto? esatto però veri lo erano anche perché si sono concretizzati nella vostra separazione tra l'altro lei mi mi diceva che non mi fidavo di lei perché lei mi diceva che non era vero e io le continuavo a dire che mi sentivo allontanato e lei quando ti ha lasciato ti ha detto che devi curarti e devi pensare a te esatto e tu ci credi che sia questo il motivo? forse forse in parte ok io ci credo abbastanza per me si era anche un po' ma questa direi che la mia no ma questo ma questo certo ogni ogni separazione è perché qualcuno si rompe ma nel vero senso è la paura della parola paura si rompe c'è una rottura mi rompo i coglioni il fatto è che guardandoti dall'esterno riusciresti veramente a darti la colpa la situazione è degenerata Marco abbiamo risolto la questione mamma tranquillo Croccomingo grazie per l'abbonamento riusciresti a dire grazie riusciresti a dire cavolo effettivamente era nocivo stare con me ero troppo dark ormai o pensi che l'abbia usata un po' come scusante perché non riusciva a dirti già da prima che era palloso stare con te forse forse un mix Marco cosa cosa ti manca di lei la persona che amo vicino cosa ti manca di lei la sua voce merda e la chiami no non la chiami non la chiami no piuttosto mi 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 dai hai capito si ammazzi esatto Marco fallo ammazzati vediamo se ce la fai stronzo non ce la faccio eh allora ha fatto bene a lasciarti senti 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 chiamala vi siete solo lasciati che lo so che è una frase da coglione la sto per dire però vi siete solo lasciati lei esiste ancora secondo me soprattutto non lo so io quando mi lasciavo e mi mancavano mi serviva anche solo la voce mi guariva tanto ma nel senso che riusciva anche come cosa a guarirmi dalla tristezza dell'essermi lasciato ad avere le idee un po' più schiarite perché perché altrimenti ti ammazzati cioè preferisci ammazzarti che chiamarla che succede se la chiami ho paura di starci ancora più sotto e ho paura di ammettere la mia debolezza perché Marco è stata davvero una relazione dura c'era c'erano davvero tante cose in mezzo eh brutte? portavano cose brutte non c'erano cose davvero brutte il litigare c'è sempre il problema che da noi c'è sempre stato e allora e allora forse allora forse ha fatto bene certo questo questo sì questo glielo ho sempre questo glielo ho detto anche io quello che però mi ha fatto stare particolarmente male è che eh lei quando stava probabilmente nel momento peggiore della sua vita io c'ero senti c'ero davvero male senti fra le mie persone preferite della vita io so bene che non posso andare da tutte loro ad aspettarmi la stessa cosa se io chiedo aiuto ad aspettarmi la stessa cosa se io voglio ridere se voglio mangiare bene cioè ognuno hai le sue cose ma te lo dico perché anch'io sono passato da quel ma perché questa persona in questa specifica cosa non funziona in tutte le altre sì perché è pretendere la luna anche solo che la gente reagisca come reagisci tu io questa cosa l'ho imparata con i grattini a Martina quella buttana non mi fa mai grattini a me adesso io ho il pass grattini ogni settimana ho un momento dove io dico pass grattini e lei me li fa tutto il resto della settimana lei si gira mi dà la schiena e si muove come la schifo che è perché mi fa capire che vuole i grattini senza parlare e io glieli faccio questo cosa cosa ci insegna che non siamo tutti uguali e che a volte tu sei bravo in una cosa lei in un'altra e a mio parere non c'è una vera spiegazione al come mai vi siete lasciati perché non è solo una no questa non è che c'è una vera spiegazione ma non è solo una è possibile che sia perché effettivamente è strano stare con te se hai ancora questi cazzi da così tanto tempo ma può essere anche che lei si è trovata debole nello stare con te perché un anno e mezzo anche di problemi ma c'è gente che riesce anche a stare molto di più che forse fa male però nel senso esiste possiamo usare altri esempi ma a mio parere dimmi io ho capito totalmente il ragionamento che hai quindi ogni persona ha la sua cosa il problema forse è che lei me l'ha promesso più volte che nel momento ma bro ma quante cose si dicono ma non vuol dire non vuol dire che sono false senti non vuol dire che sono false appena tu fai il contrario e questa cosa qua dell'amore l'ho sempre detestata quando la gente me ne parla sai chi ne parlava molto sì mio fratello mio fratello quando sente una persona promettergli qualcosa è un cazzo di mafioso se lo ricorda per sempre che ha fatto quella promessa a volte a volte soprattutto quando ci sono sensazioni come l'odio o l'amore si dicono cose e non vuol dire che se quelle cose te le rimangi o o fai il contrario vuol dire vuol dire che hai mentito vuol dire che la gente cambia e che quella promessa è bella nel momento in cui te l'ha fatta però uno dei motivi per cui la gente soprattutto in questi momenti in questi periodi proprio storici si spaventa dell'amore è che siamo molto legati all'immagine dell'amore in cui noi ci guardiamo negli occhi e ci diciamo per sempre quando più andiamo avanti nella storia più capiamo che niente è per sempre e il problema con questo mai invece del per sempre cioè che le cose finiscono è che siamo così grazie Isabel è che siamo così tanto abituati grazie è che siamo così tanto abituati all'immagine così Disney dell'amore che ci viene anche difficile ammettere accettare con grande leggerezza che a volte le promesse le si fanno perché è bello farle e non perché effettivamente bisogna mantenerle ora non voglio sputare sulla tua tristezza dell'esserti lasciato o sulla sua sul suo fin di bene ad averlo fatto però ti prego non prendertela con queste con queste promesse o con queste cose qui perché certo che è stato un'ipocrita a rompere la promessa ma a volte grazie Ubers ti lecco grazie ti lecco anch'io grazie ma a volte ci si scopre vivendo soprattutto assieme a qualcun altro e soprattutto se questo qualcun altro sta male anche se sta provvedendo a questo male come stai facendo tu perciò cerca di non scusami 15 mesi marco 15 mesi mamma 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 latte latte fresco top carne latte fresco 15 mesi 15 mesi 15 mesi grazie grazie gemoni questo questo volevo dirti alessandro ho capito pensaci non odiarla cerca un attimo no non odio non odio ok ok e ti dico a volte mandale un messaggino ma anche in maniera patetica dille pure la verità ovvero merda mi manca la tua voce non perdi alcun punto onore se lo fai dici solamente la verità come l'hai detto adesso a me ho capito davvero davvero tante grazie marco grazie a te ti sento comunque sia tralasciando questi strani confusioni che a volte abbiamo fatto parlando ti sento voglioso di stare meglio e secondo me è tutto ciò che una persona che sta male deve fare ovvero cercare di stare meglio magari non ce la fa ma il fatto che stai cercando di stare meglio ti rende un grande hai il mio rispetto ci provo davvero con tutte le mie forze di più bro di più spaccati veramente spaccati in due e non spaventarti ti mando un bacione grazie ciao marco ciao 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 dignitosissimo niente da dire mamma mia lasciarsi che merda sei un grande bro spaccati in due spaccati in due eeeh ah per lui si si è un grande un grande parag ha donato due euro toccati il lobo sinistro se sei in pericolo tutte e due ora ora che questo sai che vuol dire minchia sta cosa l'ho sempre omega detestata che la live va in una direzione e ci deve essere qualcuno che vuole creare una micro live daniele fai così con la lingua se pensi che sta andando tutto strano non siete i protagonisti di un cazzo scusatemi forse me la prendo un po' troppo però è quello che penso che se